A Cipro la nostra nazionale ha giocato due volte, sempre nelle eliminatorie degli europei. Nel 68 la squadra di Valcareggi, che poi avrebbe conquistato il titolo, vinse per 2 a 0. Il primo gol di Domenghini. Il secondo venne realizzato da Giacinto Facchetti su azione di calcio d'angolo. Nel 19...